Disordini continui e risse anche in pieno giorno. L'ultimo episodio di violenza ieri sera in Corso Vittorio Veneto tra due uomini di nazionalità marocchina, uno dei quali è stato colpito alla schiena con un martello e trasportato in ospedale. Pochi giorni fa nel pomeriggio un'altra risse in piazza Matteotti, una situazione insostenibile per gli abitanti e per i commercianti di Olbia che da tempo hanno lanciato l'allarme. Noi chiediamo che vengano istituite delle pattuglie notturne della polizia locale e nei punti sensibili che venga ripristinata perché prima c'era la stazione mobile della polizia locale che funzioni quantomeno come deterrente. Comitato pronto ora a presentare un esposto alla prefetta di Sassari Paola De Sì che sottolinea come sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica i dati sui reati dell'ultimo quadrimestre rispetto all'anno precedente abbiano registrato un calo di circa il 30%. Tuttavia non vanno sottovalutati anche questi episodi che destano questa preoccupazione dei cittadini e sui quali c'è la massima attenzione non solo da parte mia ma da parte di tutte le forze di polizia e quindi i servizi ci sono, verranno anche rafforzati. E' proprio oggi la segreteria provinciale di Sassari del sindacato FSP ha segnalato che il commissariato di polizia di Olbia, il più importante presidio della Gallura, è sempre più gravato da una carenza di personale.